Doppio appuntamento reggino ieri per l'ex presidente del Consiglio e dirigente del PD, Massimo D'Alema. Fresco di conferma ai vertici del Copasir, l'organismo parlamentare che sovrintende i servizi segreti, il politico di Gallipoli ha preso parte a un'iniziativa degli universitari di Runeius Reginum alla Facoltà d'Architettura e poi a Palazzo Campanella a un incontro sul futuro di Reggio, la Calabria e il Sud, promosso dal Partito Democratico. Alla Mediterranea, presente il preside della Facoltà di Giurisprudenza, Tiglio Gorassini, a chiusura del corso sui New Media, D'Alema è stato intervistato dalla giornalista Chiara Geloni su temi prettamente europeistici. Senza Rue avremmo decisamente maggior debolezza di fronte alla crisi economica e poi l'Italia ha sempre cercato di elevarsi innalzando la bandiera dell'Europa, ha rilevato l'ex premier e presidente della Fondazione Italiane Europei, di fronte a tantissimi studenti, per la verità, senza scaldarne troppo i cuori. Alla sala grena di Palazzo Campanella, davanti a un gota di parlamentari e dirigenti, hanno preso la parola il commissario provinciale Piddino, Momo De Maria, e per il corpo sociale il presidente provinciale CNA Gianni Laganà, il prorettore della Mediterranea Francesco Russo, mettendo in luce l'abbaglio di non efficientare il porto di Gioia Tauro, e il presidente regino del lancio Andrea Cuzzocrea, lanciando una provocazione, si estendono alla politica i controlli legalitari preventivi che falcidiano le aziende edili. Quindi Massimo D'Alema ha sfiorato un'ora d'appassionato discorso per lo più su temi di politica generale. Parlare di riforma del lavoro iniziando dalla libertà di licenziare non mi pare una grande idea, suona anche male, ha ironizzato sul governo Monti. E sulle alleanze, mai più con partiti che schierano ministri pronti a partecipare a cortei contro il loro stesso governo. Di maggiore interesse i grafi sul fronte locale, intanto sulla situazione balcanica del partito in Calabria. A un certo momento c'è stato un big bang, non si capiva più chi stava dove. Serve per normalizzare il PD calabrese. La volontà di tutti, a partire da parlamentari e dirigenti, scandisce l'ex presidente del Consiglio, di rinunciare a lotte intestine per fare un congresso vero sulla politica, ma fare un congresso per contarsi sarebbe una scelta folle. Quanto alla destra, D'Alema la vede in rapida dismissione e questo anche quanto agli equilibri alla regione, caustica la battuta sul modello reggio. Mi sembra che più che essere esportato altrove, se ne parli soprattutto alla Corte dei Conti. E in particolare... Grazie. Grazie. Grazie.